È già parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, che sto in disparte perché si dicono un sacco di cose, preferisco non essere mischiato a tutte le cose che si dicono oggi. Citerei a dire una roba che io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato, che è il Movimento 5 Stelle che oggi governa, partendo da un'idea di rete, partendo da un'idea di un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi, partendo proprio dall'idea che la rete è l'intelligenza condivisa, è la politica condivisa e che sarà la società del futuro e sarà condivisa con la rete. Attraverso quello passerà qualsiasi cosa e noi ci perdiamo in discorsi completamente inutili, vuoti e senza senso.